Per Chioggia TV siamo con Alistrando Renier nel palio della Marciliana, professione priore. Priore, frate Benedettino della contrada di San Giacomo, noi come contrada abbiamo il nostro forno, il pistore che abbiamo nelle nostre spalle, una volta il pane si faceva su un forno e tutti quanti potevano soffrire del forno. Ok, quindi voi le cose tipiche che proponete come contrada di San Giacomo è il pane, la vostra tradizione? Il pane, dopo abbiamo ovviamente il vino e da un po' di anni abbiamo anche i frati Benedettini con la nostra ricerca storica e siamo riusciti a trovare e fare la birra di frati Benedettini. Attenzione, quindi anche all'epoca si beveva comunque, anzi? Anzi, proprio era un digestivo, era un rilassante, la prendevano addirittura prima di andare a letto. Quindi aiutava a dormire, lo consigliamo magari a chi soffra di insonnia? Avevano in gravidanza per fare il latte, un po' la birra andava bene per tutto insomma. Insomma questo è uno spottone per bevi birra insomma che stai meglio dai, campi 100 anni. Allora, come contrada di San Giacomo so che avete vinto un sacco di pali. Abbiamo vinto sei pali d'oro e uno d'argento. Quindi siete tra i favoriti insomma? Diciamo che quando li abbiamo vinti è stato il periodo in cui c'era la staffetta con le balestre e si correva lungo il corso del popolo. E avevamo degli atleti, compreso i frate, che correva. Ma correva così con il saio? Mettevamo una casacca, no 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 no, se no era un po' complicato dai. Adesso con il cambio invece avete un po' perso terreno insomma. Io adesso le verette e le frecce che vengono tirate con la balestra, i nostri balestrieri... Stanno imparando, stanno imparando. No, hanno bisogno di un po' di frustatine dai. Va bene, allora in bocca al lupo per oggi, al contrario di San Giacomo e naturalmente complimenti per la Marcellana. E una cosa, il nostro santo pellegrino si abbeverava con la capa santa. Molto bene, che è una cosa tipica di Chioggia insomma, ci mancherebbe. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.